dal libro della sapienza pregai e mi fu elargita la prudenza implorai e venne me lo spirito di sapienza la preferì a scettri e a troni stimai un nulla la ricchezza al suo confronto non la paragonai neppure a una gemma inestimabile perché tutto l'oro al suo confronto è come un po di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento l'ho amata più della salute della bellezza ho preferito avere lei piuttosto che la luce perché lo splendore che viene da lei non tramonta insieme a lei mi sono venuti tutti i beni nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile dal vangelo secondo marco in quel tempo mentre gesù andava per la strada un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò maestro buono che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna gesù gli disse perché mi chiami buono nessuno è buono se non dio solo tu conosci i comandamenti non uccidere non commettere adulterio non rubare non testimoniare il falso non frodare onora tuo padre tua madre egli allora gli disse maestro tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza allora gesù fissò lo sguardo su di lui lo amò e gli disse una cosa sola ti manca va vendi quello che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo e vieni seguimi ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato possedeva infatti molti beni gesù volgendo lo sguardo attorno disse ai suoi discepoli quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di dio i discepoli erano sconcertati dalle sue parole ma gesù riprese e disse loro figli quanto è difficile entrare nel regno di dio è più facile che un cammello passi per la cruna d'un ago che un ricco entri nel regno di dio essi ancora più stupiti dicevano tra loro e chi può essere salvato ma gesù guardandoli in faccia disse impossibile agli uomini ma non a dio perché tutto è possibile a dio pietro allora prese a dirgli ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito gesù gli rispose in verità io vi dico non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per causa mia e per causa del vangelo che non riceva già ora in questo tempo cento volte tanto in case e fratelli e sorelle madri e figli e campi insieme a persecuzioni e la vita eterna nel tempo che verrà che cosa devo fare per avere in erevità la vita eterna cioè la felicità vita eterna non è solo la vita dell'aldilà ma questa vita piena compiuta senza limite che cosa dobbiamo fare per raggiungerla la risposta di gesù riassume i comandamenti che si riferiscono all'amore verso il prossimo al riguardo quel giovane non ha nulla da rimproverarsi ma evidentemente l'osservanza dei precetti non li basta non soddisfa il suo desiderio di pienezza solo accogliendo con umile gratitudine l'amore del signore ci liberiamo dalla seduzione delle idoli e dalla cecità delle nostre illusioni il denaro il piacere il successo avvagliano ma poi deludono promettono vita ma procurano morte il signore ci chiede di distaccarci da queste false ricchezze per entrare nella vita vera la vita piena autentica e luminosa grazie per la visione